buongiorno buongiorno volevo chiedere un'informazione se è possibile vi dica pure anche se stamattina questo più che un negozio se non l'ufficio informaziale allora grazie ugualmente ma no ma si figuri stavo solo realizzando sull'andamento della mattinata mi dica stavo cercando un mio carissimo amico di vecchia data si chiama max ma noi lo abbiamo sempre soprannominato lucido è un ancora regolare mi dicono se l'ha visto almeno una volta non può scordarselo e che cosa avrebbe di così particolare questo gran personaggio beh mi hanno riferito che smanita ancora con la sua zunda per le vie del centro ah certo che lo conosco il paninaro è un nostro carissimo cliente ma veramente noi abbiamo sempre chiamato signor massimiliano un vostro caro cliente ma se ha sempre uno di radicali e cosa comprerebbe nel vostro negozio fiumi di moncler più di quattro zampe non dico così i cani sono a tempo i migliori amici dell'uomo lui stesso androsse ancora il suo piumino arancione con il gallazzo e siamo più contenti che qualcuno porti ancora un po' di colore in questa city ormai grigia da tranquilla ma a modo di rintracciarlo il numero di telefono una mail io sono un suo caro amico di vecchia data so che avrebbe piacere di rivedermi sicuramente veramente ci ha ordinato 5.000 euro di articoli che dovrebbe passare a ritirarli da oltre un mese non abbiamo più su notizie alle mail non risponde telefonino è sempre raggiungibile non lo so allora non è cambiato a titolo di pacchi e sa che è sempre rimasta la solita persona gentilmente se vuoi mi lasci i suoi recapiti io le lascio il mio biglietto da visita qualora lo vedesse glielo sporgerebbe per favore glielo scrivo dietro il mio bigliettino questo è almeno anche i miei dati e tutto quanto se per caso lo sente grazie molto gentile ecco lei le lascio il mio bigliettino da visita va benissimo un così se per caso lo sento io le faccio un pronto chissà che magari diventi suo cliente affezionato sia un cane siamo a disposizione grazie arrivederci buona giornata saluti vi devo aprire grazie